Amici di Vallesina TV e di Ieselo Sovalle, oggi siamo con Andrea Pierzantelli, un artigiano, possiamo dire così, che ha un po' sdoppiato la sua attività e adesso ci spiegherà in che senso. Partiamo dall'inizio, come nasce la sua attività e di cosa si occupa? La mia attività è un'attività che si sviluppa ormai da 40-42 anni, nel 1971 mio padre si era messo in proprio e quindi prima da dipendente e poi nel corso del tempo affinando l'esperienza ha continuato a sviluppare questa passione per la meccanica che era presente comunque in famiglia fin dai primi del 1900 perché anche mio nonno nel 1908 era stato insegnato di un attestato di congegnatore meccanico di pregio all'epoca perché riparava armi da fuoco e altre cose, insomma attività simili. Questa passione è stata sempre una vocazione nella nostra famiglia, è stata una cosa che comunque ha sempre caratterizzato e accompagnato la nostra famiglia, almeno dalla parte paterna. Poi niente, da quando mio padre si è messo in proprio l'officina ha cominciato a servire sia ditte, aziende locali che privati che anche nella provincia perché comunque i clienti si sono accumulati nel territorio per vari settori, quello dell'automotive, motociclette per esempio riparazioni, modifiche, componenti sanitari o comunque tutto quello che riguarda la tipografia, tutto quello in cui insomma compare la meccanica di precisione addirittura la nautica, l'aeronautica, in certi casi la robotica eccetera. Non è soltanto una torneria, è un'officina completa dove vengono sia ricostruiti i pezzi che anche comunque lavorati dei prototipi, piccole serie di pezzi nuovi a seconda delle esigenze che possono essere molteplici, quindi dal privato che comunque sta restaurando un meccanismo, deve riprodurre un organo complesso della macchina fino a una ditta che per la stessa esigenza invece deve portare avanti una piccola produzione, una produzione importante. È una passione che sta trasformando un po' questa attività in che modo? Beh sì, da diversi anni, ormai saranno 5-6 anni, mi sono dedicato alla costruzione di alcuni oggetti abbastanza particolari che vedono sempre protagonista il metallo, però scolpito in un certo qual modo attraverso le macchine che io utilizzo, cioè in questo caso non si tratta di una scultura tradizionale, ma appunto di un assemblaggio di pezzi che sono tutti ricavati qui in laboratorio attraverso le mie macchine e poi assemblati per viteria senza alcun tipo di saldatura, quindi richiedono un lavoro molto lungo, preciso e anche abbastanza creativo. Come è nata questa idea? Beh è nata sempre relativamente alla mia vena creativa, questa l'ho associata un po' nel tempo a tutta quella sottocultura e cultura varia di fumettistica, da piccolo cartone animati e poi nel tempo tutto quello che comunque ha riguardato la robotica associata anche alla natura, al mondo naturale, laddove oggi come oggi si possono vedere spunti da tutte le parti, Giappone, America, con proposte allucinanti, ma nel mio piccolo ho voluto da una libera interpretazione di questo mondo che comunque è in pieno sviluppo, con i miei mezzi e con i materiali che uso solitamente, inox, ottone, acciaio semplice, eccetera, tutto quello che riguarda anche materie plastiche, insomma la meccanica di precisione. Un'opera, un piccolo robot antropomorfo che era stato anche esposto in una galleria d'arte Iesina di Andrea Giorgi, vicino al Palazzo della Signoria, in centro, era stato esposto per diverso tempo, è composto da centinaia di piccoli pezzi, sempre tutti elaborati qui in officina. E' un prodotto abbastanza importante sia a livello creativo sia per l'impegno fisico, anche per svolgere tutte le attività di progettazione e assemblaggio. E questo ha suscitato abbastanza interesse anche presso un pubblico più piccolo di bambini, laddove stuzzicava la fantasia richiamando immagini anche di film ben noti. E poi da lì ho deciso invece di catapultarmi più sul mondo naturale, in se stesso, perché ho preso a soggetto libellule, in primo luogo ho riprodotto una libellula con un'interpretazione mia fantastica, però in grande, ha un'apertura alare di 125 cm, quindi è un'opera importante, in acciaio e alluminio. Questa è anche composta di centinaia di pezzi e completamente snodabile. Sulla scia di quella ho fatto anche altre libellule che poi sono state composte in un'unica opera, però in posture differenti, proprio per far vedere con effetto anche un po' dinamico quella che potrebbe essere la diversa postura, le posizioni diverse assunte da queste libellule, che sono anche un po' una metafora sociale in cui ci sono diversi soggetti un po' più statici, altri più dinamici, però comunque un'opera un po' più definitiva, diciamo via. In progetto ci sono anche altri soggetti, sempre nel mondo naturale, perché mi ispira molto, formiche, manti religiose, o comunque scorpioni, tutto quello che riguarda il piccolo, ma che attraverso questa tecnica della riproduzione robotica, proprio dà più risalto a questo microcosmo e gli conferisce un valore un po' insolito, via futuristico, diciamo. Quanto ci vuole a realizzare un'opera di questo tipo? Allora, per quanto riguarda il primo robot, ho impiegato un paio d'anni, un paio d'anni in mezzo di lavoro, non a tempo pieno, ma in quelli che erano, insomma, gli spazi di tempo che potevo utilizzare, ma è un lavoro lungo perché ogni pezzo appunto va progettato nel contesto di un lavoro complessivo, quindi praticamente la progettazione, l'ideazione, il primo luogo e poi l'assemblaggio sono tutte fasi che nella mente vanno coordinate, anche perché non lavoro molto con progetti cartacei, ma comunque vengo sviluppando l'oggetto nel corso del tempo. Per adesso è qualcosa di artistico e diciamo praticamente un hobby, può diventare più un lavoro, una parte prevalente del suo lavoro questa? In che modo, in caso? Beh, allora, certo, ancora si parla molto di hobby perché queste opere comunque dovrebbero essere esposte, mostrate al pubblico, molte persone, fra cui molti clienti, me lo dicono, mi dicono fai un'esposizione, comunque porta fuori anche nel territorio questi soggetti per mostrare le tue capacità. Per adesso sono un biglietto da visita pubblicitario per le lavorazioni che si svolgono dentro l'officina, per la meccanica di precisione che comunque resta lo zoccolo duro dell'attività e poi nel tempo, ecco, magari potrebbero trovare collocazione in un arredamento moderno, comunque con questo tipo di nuovi spunti si potrebbe sollecitare una clientela di tipo diverso. In questo periodo, purtroppo anche abbastanza lungo, di crisi, può essere questa un'idea oppure dare spunto a qualcuno magari per uscire da un periodo di difficoltà, un periodo di crisi, quindi in qualche modo reinventare la propria attività con altri sistemi? Certo, certo. Io penso proprio che ognuno nella sua attività, nella sua realtà possa comunque interagire con la realtà esterna, con il pubblico, ma soprattutto fare un po' ricerca anche all'interno di se stessi, nelle proprie immaginazioni, nelle proprie idee, cercando appunto di tirar fuori cose innovative pur sfruttando i legami con il passato e con la tradizione, perché comunque prima di innovare, investire, bisogna comunque partire da una base già consolidata o per chi sviluppa qualcosa completamente da nuovo, comunque cercare sempre di rapportarsi con l'esistente e non perdere comunque fiducia nel fatto che le crisi passano, ci sono dei passaggi, adesso questo è abbastanza problematico per tutti, ma penso che nel tempo ci possano essere degli sviluppi per tutti, quindi non perdere le speranze.